Tutto lasciava presagire che nelle prossime ore Giancarlo Improta si sarebbe legato alla Casertana. Il calciatore infatti aveva avuto un colloquio chiarificatore con la società dopo il rifiuto di giovedì scorso. Invece a sorpresa ecco arrivare la firma per l'Isola Liri. Dunque l'ex versa sceglie la Lega Pro e dopo le esperienze con i fondi prima il Neapolis poi decide di rimanere in seconda divisione in un girone che tra l'altro conosce anche molto bene. A questo punto la Casertana sarà costretta a guardare altrove. L'impressione però è che domenica contro il Francavilla l'attuale organica non verrà arricchito come nuova punta. La pista che portava Roberto Pasca non sembra essere molto percorribile anche se il calciatore resta libero. Travontata l'ipotesi romano potrebbe spuntarla l'argentino Vicentin corteggiato comunque da diversi club di Lega Pro e addirittura il Salerno Calcio. Intanto notizie poco confortanti per Massimiliano Raucci. Nell'amichevole con il Carano il difensore ha riportato uno stiramento al collaterale e tornerà in campo tra due mesi. La società a questo punto potrebbe anche decidere di tornare sul mercato e prendere un sostituto o dare fiducia a Perna come alternativa ad Okoroji.